Un seminario per approfondire il nuovo codice degli appalti è quello organizzato nel castello Normanno Svevo di San Nicandro di Bari dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, in collaborazione anche con l'Ordine degli Architetti. L'obiettivo è informare i tecnici sul nuovo codice appalti e sostenerli nell'aggiornamento professionale nell'ambito delle gare ed evidenza pubblica. Per noi la formazione è fondamentale ai fini di esercizio della professione, riteniamo che l'obbligo di formazione, uniti all'obbligo del rispetto del codice antologico sia uno degli elementi che devono obbligare il legislatore a fare in modo che tutti gli ingegneri che eserciziano la professione siano iscritti all'albo. Non è possibile che ci siano soggetti obbligati ad aggiornarsi e a rispettare il codice ad altri invece che pur svolgendo la stessa professione non lo fanno. È come se un medico potesse esercitare la professione di medico senza essere iscritta all'albo. Quindi è una cosa inaccettabile per noi, riteniamo che su questo vulnus bisogna mettere rimedio. Il governo ha dato un segnale in una direzione, ma per essere operativi servono alcuni chiarimenti. La materia del codice degli appalti convince che i percorsi formativi qualificati inducono per esempio la figura del RUP che oggi responsabile unico della progettazione anziché del procedimento debba avere delle competenze diverse. Si occupa di tutte le fasi autonome e quindi non basta certamente la mia preparazione tecnica, è necessaria una preparazione giuridica, amministrativa e esperienziale. Quindi se il RUP deve essere davvero il punto di riferimento delle procedure deve essere un punto di riferimento stabile, credibile e affidabile. Grazie.